Piatra, razza d'idiota. Contatta la squadra Inferno, ora. Comandante Versio, rapporto. Rilevata una squadra di recupero ribelle, ma è tardi per catturare i Sabotatori. Qual è lo stato del generatore di scudo della Morte Nera? Peggio delle aspettative. Non si può riparare o riattivare. Allora la stazione è vulnerabile. Eliminate quei ribelli e tornate sul Corvus. Il piano dell'imperatore deve riuscire. Sì, signore. Ask, con me. Mico, tu ci coprirai da qui. Un bersaglio, qui davanti. State con me. Ricevuto, comandante. Situazione? Sì, è il generale solo che potrebbe volerci un po'. Se c'è qualcosa da recuperare, lo troveremo. Ma i danni sono ingenti. Ci sono molti... Attenta, comandante. Un bersaglio lungo il sentiero. Amministate due squadre d'assalto. Una al bunker, l'altra vicino al camminatore caduto. Ben fatto, agente. Ora lascia fare a noi. Voglio una scansione. Ci vuole ancora molto? Il piano è traurico, è saltato. Certo, confermato. Vai up! Fatto. Bunker sotto controllo. Dammi una scansione. Altri ribelli, aspettate il mio signore. Sì, comandante. Comandante, rinforzi ribelli in arrivo. Fuoco a volontà. Neutralizzare tutti i bersagli. Sì, comandante. Ricevuto. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. Ammiraglio, la squadra inferno si ritira da Endor. Qual è la situazione? No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti. Attenzione, comandante. Battuglia ribella in arrivo. Grazie, agente Meiko. Ce ne occupiamo noi. Contatto visivo con la battuglia. Dovremmo giustiziarli tutti sul posto. Facci piano, agente. Non ci credo, ce l'abbiamo fatta. La guerra è davvero finita. Scusa, comandante. Non c'è così facile. Il ferro sarebbe collato dopo gli avvisi. Fuoco! Mi abbatto! Mi abbatto! No, 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 no! Scansio. Battuglia neutralizzata. È quello che meritava. Comandante, a sguato di belle. Abbiamo perso una navetta. I nostri uomini sono sopraffatti. Occhi aperti, agente. Noi faremo il possibile. Vai. Quattro. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.